Signor Perfetto, si chiude un anno davvero particolare e ha accolto l'occasione per incontrare i giornalisti del territorio. Sono stati tanti i punti che ha affrontato dal rapporto con i giovani, la problematica dell'alcol, i flussi turistici e anche il tema degli incidenti sul lavoro, che comunque anche se alla Spezia c'è stato solo pochi casi mortali fortunatamente, però è un tema sempre molto sentito. Cosa si sente di dire alla fine di questo 2022 e quali saranno le battaglie che la Prefettura cercherà di sostenere per il 2023? Innanzitutto un grazie agli spezzini perché abbiamo lavorato tutti insieme, grazie in particolare alle istituzioni con cui c'è un rapporto più stretto e parlo ovviamente delle forze di polizia e dei sindaci, in particolare del sindaco della Spezia. Cosa mi sento di dire? Che dobbiamo continuare così, stringerci intorno come comunità, darci degli obiettivi che sono obiettivi di tutti e citando sempre gli esempi che ha fatto lei, metterei in testa la lotta all'alcol e alla droga, l'abuso da parte soprattutto dei minorenni perché è chiaro che abbiamo una responsabilità nei confronti di nuove generazioni e poi la regolarità del lavoro sotto i suoi aspetti perché non si può morire sul luogo di lavoro, il lavoro deve dare dignità all'uomo e non può essere occasione di sfruttamento e di arricchimento in debito. Ha fatto anche riferimento comunque anche a quello che è il rapporto ad esempio con i sindacati? Il rapporto con i sindacati è ottimo, io chiamo i sindacati, anche loro, a essere ancora se possibile più incisivi perché i lavoratori abbiano sempre maggiore consapevolezza dei loro diritti. Il ruolo dei sindacati è estremamente importante, soprattutto quando parliamo di sicurezza sul luogo di lavoro, di lavoro regolare. Dico ai sindacati, continuate così ma fate ancora meglio se è possibile. Chiaramente poi ritornando al principio si è parlato anche di flussi turistici, di temi e anche di quello che si può chiedere al prefetto per la propria città. Sì, mi piaceva capire dalla stampa, che è al polso ovviamente della città, della provincia, come vedessero il prefetto. Io sento molto questo ruolo di coesione sociale, fortunatamente non abbiamo avuto fino adesso grandi emergenze e chiaramente ci auguriamo che non ne arrivino ma il prefetto si deve preparare, deve costruire una rete di rapporti solidi basati sulla fiducia in maniera tale che laddove nella sciagurata e evenienza ci fosse veramente bisogno di interventi d'emergenza la rete si è già attiva e si è già consolidata.